Ciao a tutti e bentrovati, allora questo è un video velocissimo per aggiornarvi su Lucca Comics. Andrò come vi avevo appunto anticipato, nello specifico parto domani mattina alle 9 più o meno da Torino per arrivare alla fiera che saranno l'una abbondante credo, perché comunque sono tre ore e mezza di viaggio poi metti che facciamo una sosta, poi comunque arrivati lì dovremo fare la fila per il biglietto. Arriverò più o meno per l'una abbondante. Cos'altro volevo dire? Starò lì venerdì, sabato e partirò domenica nel pomeriggio, quindi più o meno i tre giorni di fiera me li faccio. Altre cose che volevo dire, ecco, sarò molto probabilmente nella zona del stand Marvel e DC quindi dovrebbero trovarsi entrambi sotto lo stesso capannone che dovrebbe essere quello di Piazza San Michele non mi ricordo, comunque chi può controlli sul sito di Lucca Comics e può appunto vedere dove sono questi due stand però dovrebbero essere tutti e due sotto lo stesso capannone. So che alcuni di voi avevano piacere di contattarmi in maniera più diretta, quindi col cellulare non ne abbiate a male però preferirei tenere questo numero che ho ancora privato, nel senso che comunque è anche il numero che do per lavoro, quindi preferirei tenerlo privato. Chi avesse la possibilità di un telefonino con collegamento internet oppure di collegarsi a internet da un wifi o comunque da un computer portatile può contattarmi tranquillamente tramite i classici canali, cioè mail del canale, mail personale, che comunque è la stessa, il tizio qualunque chiocciolagmail.com oppure tramite Facebook. Chi non avesse possibilità, che non ha uno smartphone o non ha un collegamento internet in quei giorni, di contattarmi io l'ho installato ieri come cosa, però non l'ho ancora provata, ho messo il ring to Skype, cioè praticamente è un numero di telefono nazionale quindi non ci sono costi aggiuntivi per voi che chiamate, al massimo per me, visto che per me sarebbe una chiamata dati che facendo questo numero voi verreste in contatto con il mio contatto Skype quindi io avendo il telefonino con Skype posso parlarvi al telefono come se fosse una normale chiamata non l'ho ancora provato la qualità della chiamata, però provate al massimo, ma che vada non si sente niente allora vi ripeto che è un numero nazionale, quindi non avete dei costi aggiuntivi, anche perché così scrivono se no faccio l'incacchio come una bestia, il numero è 024721315 quindi ve lo ripeto, 024792315 ho detto giusto? va beh, lo ripeto per sicurezza perché sono impedito 0247921315 forse prima avevo dimenticato un 1 vabbè, comunque l'ultima che ho detto è quella buona una volta composto il numero doverte sentire una voce in inglese che vi dice di comporre altre tre cifre che sarebbe come se fosse un interno di un centralino voi dovete schiacciare 820 una volta fatto questo dovrebbe mettervi in contatto con me non l'ho ancora provato lo proverò e vi farò sapere al massimo tramite facebook o tramite altro canale comunque questi sono i modi per contattarmi se aveste piacere di incontrarmi di fare quattro chiacchiere mi troverete quasi sicuramente col borsone con dietro il book questo, nello specifico questo borsone che era quello che ci avevano dato alla scuola comics che devo ancora finire di riempire perché ho ancora tutte le varie cose nel book che devo rimettere a posto quattro minuti è già tantissimo per adesso è tutto ci si vede a Lucca ciao ciao